Posso sapere per favore che senso ha questa specie di esperimento scientifico? Cioè che risultati dovrebbe dare? Cioè ti stai semplicemente facendo risucchiare non il sangue ma l'anima? Da delle zanzare non stai guadagnando nulla da questo esperimento, niente! Sinceramente non voglio vedere la foto del dopo perché penso che vomiterei.